La rapida sconfitta del governo afgano e la fuga provvisa e un po' confusa di tutti gli stranieri dell'Afghanistan mi fa pensare a un colloquio che ebbi tempo fa con un profugo afgano. Un profugo afgano che era orgogliosamente convinto che il suo lavoro in Afghanistan fosse un lavoro importante. Lui scavava pozzi, li scavava a mano. Ma la cosa che mi colpì di più di questo profugo afgano è che mi sembrava profondamente in sintonia con gli ideali talebani, con gli ideali islamici più radicali e più legati a una lettura integrale e integralista del Corano. Mi chiedevo quindi perché fosse venuto in Italia, perché fosse scappato dall'Afghanistan se i suoi idei, i suoi ideali non erano così diversi da quelli dei talebani. La mia idea è sempre la solita, è scappato per trovare fortuna. Ma la cosa che mi colpì è questo, mi sono chiesto ma perché allora si va là a portare cultura se poi questa cultura non interessa, ma soprattutto mi sembrava che fosse anche vista come una cultura degradante della qualità di una società. Una degradazione della società afghana sui principi fondamentali per loro. La famiglia, avere dei figli, essere una comunità e non tanti individui. E quindi questa idea di esportare una democrazia con dei valori che da un punto di vista logico per gli afghani ma anche da un punto di vista logico evoluzionistico sono dei controvalori poteva avere successo. Là mi erano già nati i primi dubbi. Molto probabilmente l'idea era che fosse un'imposizione di un'idea non in linea con quelli che erano i pensieri di quel territorio. Insomma, la vittoria dei talebani in Afghanistan è stata la vittoria del fallimento di un'ideologia occidentale che si vuole esportare ma che non ha probabilmente futuro. E' probabilmente legata alle stesse vittorie delle componenti sovraniste in giro per il mondo negli scorsi anni. Delle vittorie con cui bisognerà di nuovo far conto perché torneranno di nuovo alla ribalta. I valori occidentali non sono valori sostenibili. E ribadisco valori occidentali non i valori cristiani. Molto probabilmente sono anti-evoluzionistici ma spesso vanno anche contro il buon senso. E soprattutto sono individualistici ed egoistici. In una società rurale in cui tutti si devono dare una mano perché la povertà non permette di vivere in maniera individuale ed egoistica, è logico che siano valori non accettati e non accettabili. Insomma, tutti questi dispiaciuti che danno la colpa al fatto che il governo afghana fosse corrotto, che gli americani non abbiano lavorato bene, dovrebbero iniziare invece a fare autocritiche, capire che cosa, nelle loro idee, nelle loro ideologie, nel loro modo di vedere l'occidente del domani, ci sia di non sbagliato, senza partire da posizioni supponenti superbe e di maestrini che devono solo insegnare ma non hanno mai nulla da imparare. Insomma, la sconfitta afghana non è una sconfitta militare, ma una sconfitta ideologica, di un'ideologia che si ritiene superiore, ma che tale non è. E ribadisco, non parliamo di un confronto tra islam e cristianesimo, ma tra due concetti di cultura diverse e di società diverse. Una società basata sulla difesa dei valori egoistici ed individuali e una società basata sulla difesa dei valori comunitari. Paradossalmente, probabilmente la stessa battaglia che si sta giocando in occidente tra sovranisti e radical chic.